Cosa state leggendo? Stavamo guardando gli ascolti che ha fatto la Ferragni da Fazio Ah, cosa dice? Dimmi cosa dice No, 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 niente, Santità Ti ho detto di dimmi cosa dice Allora, il problema, Santità, è che la Ferragni ha fatto più di lei L'ha superata in Cher Ragazzi, ora vi dico una cosa Voi non dovete leggere i titoli, no? E no, ma è un titolo forte Sì, la Ferragni batte il Papa Sì, ma è solo un titolo È un titolo per far vendere i giornali Bisogna fare, scusate, delle analisi molto più approfondite In che senso, Santità? Bisogna leggere il report degli ascolti che ti arrivano Cos'è? Cos'è? Da Bani J, dal 9, da Rai 1 Ti arriva tutto il report degli ascolti, no? Tutti lunedì mi mandano il report di quante persone hanno guardato l'Angelus Se sono persone del nord, del sud L'età media, il titolo di studio, il reddito annuale Per esempio mi fanno notare che su Rai 1 la Santa Messa Sì, sì Alle ore 11 Fa un bellissimo traino a linea verde Ah bene A linea verde Bello Quindi quello che avete letto non è vero La Ferragni batte il Papa Però Fazio con la Ferragni ha fatto il 14% E con lei il 13 Il 13, Santità L'oggettivo No L'ascolto di un programma, cari cardinali, avulsi dalle metodologie degli ascolti Dipende da tanti fattori Tipo Bisogna imparare E tipo Bisogna imparare a leggere le curve Le curve Le curve Adesso vi spiego Questa è la curva, la vedete? Sì Ah, della Ferragni Sì La vedi? Sì Che partita qua? A che ora è partita? Che non c'è 21.04 Alla 21.04 è partita la Ferragni Sì Così Era il 13% Sì Sì È partita Sai Ha iniziato io Guardavo Frentendimento Sì Sì È vero Sì È vero Strana Da Ferragni Frentendimento Sì L'abbiamo visto Continuava a dire Strana Sì Sì Ha iniziato a dire Mi sento strana Frentendimento Qui Lì l'ha detto No Per un po' La gente Chissà adesso cosa dice Esatto E poi ha cambiato Ha iniziato a dire Strana Frentendimento Sola 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 Cambiato Sì Cambiato di Frentendimento Non faccia la Ferragni Sola No Ferei divertente Ti stavo dicendo solo Ma no no Per carità Quindi una volta nel Frentendimento Ha fatto 33 minuti De Frentendimento È strana È arrivata Sì Al 17 Al 17 Sì Ok Sì Questa è quella della Ferragni No Sì Ed è rimasta per un po' di minuti Dal 16 Vedi qui Sì Fino al coso 12 minuti Quanto è stato Poi è arrivata Il club 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 è andata Il club è andata su Il club è andata su al 18 Sì Ok Allora ti faccio vedere La mia curva Ah c'è anche la sua curva Quella di gennaio Della sua puntata Allora io purtroppo Sono entrato in studio E ancora sono entrato È alle 22 No 20 58 20 57 20 20 57 Tieni conto che io Il traino che avevo io Era Giannini Sì Cusso Crea E nello scavo Vabbè nello scavo Sono bravissimi giornalisti Sì Una tristessa No vabbè Ma analizzavano Un treno terrificante Non è vero E infatti ci ho messo Un po' a salire Certo Sono arrivato A 16% Vedi Sì Sono arrivato a 16 16,2 16,3 Ma sono rimasto Per 18 minuti Ah Fino lì 18 minuti Tanti minuti Ma vedi che anche Un po' sopra Al 16% Sì Sì Poi due puntate Al 16,3 16,4 Ho capito Però domenica La Ferragni Ha fatto il 14 Lo dicono tutti Però ragazzi Non leggete i titoli Dipende tutto Dal monologo Della Litisetto Che viene dopo Cosa c'è? Domenica Dopo la Ferragni Sì Domenica Dopo la Ferragni La Litisetto È entrata col chirurgo Sì Che ha rifatto il culo A una donna No no va bene Che è scappata Senza pagare L'abbiamo vista L'abbiamo vista E poi c'è stato Nero della pubblicità E dopo le ore Che sono rimasto Hai capito Cosa voglio dire? E poi però E quello ti alza di brutto Dopo di me Dopo di me La Litisetto Sì La Litisetto Sì Ha fatto Il pipotto Sul covid E sui vaccini Va beh era un altro periodo Ed è rimasto al 13 Col pipotto Invece prima Che si entrava col chirurgo Che ne rifaceva al culo Rimaneva al 16 Avete capito adesso L'unica cosa Che devo aumentare Sì Sono i follower Su Instagram Ah beh ma Sì Quanti follower ho io? 9 milioni Santità 9 milioni È una bella cosa Tantissimo Santità Sì sì Tantissimo Tantissimo Quanti follower ha La Ferragni 29 milioni 20 milioni Più di me Eh sì Eh sì Santità Sì 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 Vabbè E E Quanto è Il patrimonio Della Ferragni? Eh Santità è stimato Sui 100 milioni Di euro 100 milioni Sì 100 milioni Di euro Quant'è il nostro patrimonio? Beh Santità Siamo sui 2000 miliardi Sento strano Andrea Zalone Antonio Gargiulo